Sì, sì, vai Trajardino, vai, 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 bravo, 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 forte Smettetela di stare con l'asciucamanino, ma che cavolo ti modifichi se ti fai battere da uno che gioca a Fortnite una volta alla settimana Ciao a tutti ragazzi, qui è FortiGamer che parla e benvenuti di nuovo su Fortnite Arena Oggi ragazzi ci aspettano un bel po' di punti da fare, mi raccomando iscrivetevi al canale nel caso in cui non l'abbiate fatto Attivate la campanellina e soprattutto lasciate like per farmi capire che questi video vi piacciono Ma non perdiamo tempo, andiamo in game Prima di startare ragazzi vi ricordo solamente di andare all'interno dell'idem shop e di inserire il codice creatore fortu così come vedete a schermo Accettate e da ora ogni acquisto che farete mi farà ricevere una piccola percentuale Mi raccomando se avete già messo il codice ragazzi rimettetelo perché ve lo devono ogni 14 giorni La nostra situazione è la seguente ragazzi, Open League ci mancano 340 punti per la prossima L'obiettivo di questo video è cercare di farli tutti Io lo so che finirò questo video lanciando madonne Allo, prima martedì della giornata, 60 di ping, mandaccia Calmi ragazzi, mi sento fiducio Non ti permettere Il tizio sotto c'ha qualcosa sicuramente Fucile a pompa? No eh, insieme Ah, grazie Quasi quasi ragazzi, fulliamo, non mi interessa, non voglio rischiare Con 70 di ping non posso permettermi tanti lussi Ok, wow Non so chi ha giocato peggio tra i due Level action shotgun, va bene Più 10 punti Dai ragazzi, sono altri 335 Vuole fai dare perché sa di avere il vantaggio con il fucile Godo Statch Bella Ottimo così, aveva pure altre cure Sinceramente non so se me lo voglio prendere l'automatic sniper rifle È carino, ma Cioè, è carino, punto Mmm Woo, mi sono fatto malissimo Man GG Ho sbagliato io tantissime cose qui Ah, ok Ci aggiungerei una vicino a borto Prima No, mi dissocio Stavolta l'esi è più vicina Carino Si prendono la cesta Che cosa divertente No Dio santissimo Che brutta situazione Vabbè, io ci provo, dai Tanto del peggiore dei casi muoio Godo Scusi Mi dispiace se Grazie Non era un fucile a pompa quello Ho un proiettile nella mitraglietta Mi sembra politica come cosa Ah, vedo gente ovunque È un casino Godo Munizioni piccole Sinceramente mi fa molto strano Che non abbia capito che io fossi lì Ma va bene Non farò ulteriori domande Devo uscire Devo andarmene immediatamente da qui Quanta gente c'è qua sopra Mi è passato uno davanti Modifica Godo Mi devo subito curare Sta arrivando l'altro nemico, credo Quello che fa Si avvicina Va bene Posso provare a farli cadere Ma si devono alzare un altro po' Oh, che noia Vi potreste iniziare a fightare tra di voi? Grazie, eh Gentilissimi Spero che si stiano ancora fightando Lo stanno ancora facendo Devo scappare via ragazzi C'è un nemico di fronte Bravi, bravi GG Due addosso però Non l'avevo visto ragazzi Stavo a sinistra e mi ha crackato Altri 145 punti Dai, si può fare Cambiamo un po' Andiamo a believer, bitch Sempre lesi Altrimenti Sa poco di fresco Che dite? Oh, bene Grazie di esserti preso le mie armi Gentilissimo Non mi craccare Non mi craccare Non mi craccare Non mi craccare Ti prego lasciami stare Grazie Godo, bravo Applaudo Ma che arma ha? Sì, sì Vai tra iardino Vai, 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 vai Bravo, bravo, bravo Forte Smettetela di stare con l'asciugamanino Siete nell'arena dei bambini senza mani Basta Lo so che sono in arena Quindi figuratevi Ci sta che giochino così Ma che cavolo ti modifichi Se ti fai battere da uno Che gioca forte Nella volta alla settimana Bro, like, please Quasi, quasi voglio Mamma mia Stavo per trivellare di proiettili Quei poveri manichini Quello che è una jump? Boh Fresca come erpane Goliardi che oserei dire Sì, sì Vai tra iardino Vai, 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 vai Bravo, bravo, bravo Forte Smettetela di stare con l'asciugamanino Lo so che sono in arena Quindi figuratevi Ci sta che giochino così Ma che cavolo ti modifichi Se ti fai battere da uno Che gioca forte Nella volta alla settimana C'è nessun altro? Sono finiti? Strano Ma mi arriva una cecchinata Palese Cecchinata palese ragazzi Ok, gente sotto Ho sbagliato l'arma Ho pensato di avere un assalto E non avevo un assalto Era quello di prima Che mi ha sparato dalla casa E aveva giustamente Un cavolo di P90 Ho fatto malissimo Brother Era incazzato nero Non mi posso tenere Questo assalto rifle Al posto dell'assalto Perché mi imbroglio Pensavo di star sparando L'M4 Invece ho cacciato sto coso Non so neanche come gli siano arrivati I proiettili Sinceramente Rischiatissima man Non ci sta tipo Non credo Falò in zona No Ah sì C'è Godo Fantastico Ottimo Ottimo così dai Solo che a sto punto Mi servirebbe un fucile a pompa migliore Ragazzi Solo altri 55 punti E raggiungiamo l'obiettivo di oggi Forse questo potrebbe essere L'ultimo game che facciamo Questa zona apparentemente Mi sembra libera Prendo uno dei cubi E ce ne andiamo Oh raga 30 di ping Devo sfruttare la sta cosa Let's go Tra l'altro questi non sono come Gli spettri Delle vecchie season Perché non hanno lo scatto in avanti Non so quanto possono essere utili Sinceramente Ce n'è che mi piacciono tanto Serve un piccolo sprint In quella direzione Grazie Via Ottimo luogo del cavolo Per atterrare Credimi bro Veramente pessima scelta Che fucile a pompa avevi? Ah sicuramente uno migliore del mio Ok Andato Ce n'era pure un altro però Ed è quello che sono andato ad attaccare Questo mi ha inseguito Ma tanto per pigliarsi la kill Andiamo in safe dai Eh mi spiace bro Ho fatto una pessima scelta di mosse Credimi Mai andare contro un cespuglio Come hai fatto te 3 jump Ottimo così Oh che cavolo Cavolo Lì se le stanno dando di santa ragione La safe è brutta proprio Dai almeno il posizionamento 10 Lo riesco a prendere Non voglio fai dare questa troppa gente Via No cavolo Bravo Insomma mi sono piazzato decimo Questo aveva 52 Se solo avesse avuto il fucile a pompa Invece che l'assalto GG Cavaliere nero Vabbè ragazzi per oggi basta Stiamo riuscendo a raggiungere I 1225 punti Quindi abbiamo superato Di 25 punti Il nostro limite insomma Che ci eravamo prefissati Mi sembra molto politica Come sessione Alla prossima Ci aspettano un bel po' di punti A dirla tutta Vabbè ragazzi Se questo video vi è piaciuto Mi raccomando vi ricordo Di lasciare un like Ma soprattutto Di iscrivervi al canale Di attivare la campanellina Altrimenti vi perderete Tutti i prossimi video Vi ricordo tra l'altro Che oggi ragazzi Alle 17 Sarò live sul canale Twitch Di PlayStation It Per giocare assieme A Battlefield 2042 Per chi volesse raggiungerci Basta che scrivete su Twitch PlayStation It E mi trovate Perché se ragazzi Perché non lo sapesse Sono diventato da un po' di tempo A questa parte Streamer ufficiale per PlayStation Detto questo Noi ci becchiamo Alla prossima boys Per un altro sclero in arena Ciao